L'ho troppo parlato dopo Firenze, ancora una volta molte palle golle, non si riesce a segnare. Che problema c'è, se ti metti inizioni di buona sorte? Non lo so, sicuramente è un pello allo sordo, e poi manca un po' di cattiveria, un po' di lussiduità, di tranquillità, di buttarla dentro in questa paia, no? Ma Firenze ne abbiamo creato tantissimo gol stasera pure, la palla purtroppo non voleva entrare, noi dobbiamo continuare a giocare bene, ma i gol dobbiamo fare perché i punti persi sono già tanti. Giovedì c'è l'Europa League, c'è il ritorno con lo Zurigo, e quello è il vero grande obiettivo di stagione, anche penso nello spogliatello, sentite questa voglia di conquistare questo trofeo? Sì, ma sia il campionato che l'Europa League ci potiamo tanto, e l'Europa League vogliamo arrivare prima a fondo, e il campionato non possiamo, e non dobbiamo molare perché se dobbiamo giocare fino alla fine, anche Juventus avrà le partite difficili, quindi dobbiamo essere concentrati e non perdere più punti e guardare avanti. In questo mese abbiamo visto il miglior zielisti, forse della stagione, la partenza di Anzic ti dà qualche responsabilità in più, ti fa venire voglia di dare ancora di più per questa squadra? No, non credo, penso che la partenza di Mara è che non canta niente, solo che abbiamo perso un campione, un perso importante. Io ovviamente sto bene, spero di continuare così, fino alla stagione, sto bene fisicamente e mentalmente, quindi sono contento e voglio fare bene e dare tutto per questa squadra. Grazie. Grazie.